L'amore è una passione intensa, ardente. L'amore ti spinge oltre ogni limite, supera ogni ostacolo e vola alto, ma l'amore non lascia segni sulla pelle. La violenza non è amore, se ti picchia non è amore, se abusa di te non è amore. Se stai avendo una relazione ossessiva o se sei vittima di abusi e violenze, grida forte, ribellati. C'è un mondo intero fuori che ti sente e può proteggerti. Alza la voce, fatti ascoltare. La violenza sulle donne è inaccettabile e va denunciata. Io lotto, è un'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli. È finalizzata la promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti e denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare. Chiama il 1522 o scrivici in chat.